Io sono qui a parlare di questa azienda agrituristica e dirò com'era. Era un'azienda agraria completa, agricoltura, bestiame. C'era anche la monta dei tori. Un toro scappò e fu abbattuto dai carabinieri davanti a Lasso di Conte con un mitra. Comunque la decisione di mettere, di fare questo recupero faticoso, lungo e costoso, la banca poi non ha il senso dell'umorismo, se non paghi soffende. Comunque siamo molto contenti di aver preso questa decisione perché Deruta, non so se i rutesi lo sanno, ma è un incrocio tra arte, agricoltura, artigianato e turismo. Su questo incrocio abbiamo preso questa decisione e io ne sono molto fiera perché è un posto molto bello e attraente. Grazie.